I paesaggi culturali. I paesaggi vitivinicoli del Piemonte, Langeroero e Monferrato sono stati iscritti come sito culturale UNESCO nel 2014 a Doha, in Qatar, durante la trentottesima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale. Criteri di iscrizione sono il terzo e il quinto. Criterio terzo. I paesaggi culturali vitivinicoli di Langeroero e Monferrato offrono un'eccezionale testimonianza vivente dalle tradizioni di viticoltura e vinificazione, che vantano una lunga storia e che sono continuamente migliorate e adattate fino ad oggi. Criterio quinto. I vigneti di Langeroero e Monferrato costituiscono un esempio eccezionale di interazione dell'uomo con il suo ambiente naturale. Grazie ad una lunga e costante evoluzione delle tecniche e delle conoscenze sulla viticoltura, è stato realizzato il migliore adattamento possibile dei vitigni alle caratteristiche del suolo e del clima. I paesaggi vitivinicoli esprimono anche grandi qualità estetiche, rendendolo un archetipo di paesaggio vitivinicolo europeo. I paesaggi vitivinicoli delle Langeroero e Monferrato in Piemonte sono costituiti da cinque aree vinicole, distinte, e un castello. La Langa del Barolo, le colline del Barbaresco, Nizza Monferrato e il Barbera, Cannelli e l'Astia Spumante, il Monferrato degli Inferno, il castello di Grinzane Cavour. Tre aree si trovano nella regione delle Langhe, due in quella dell'Alto Monferrato e una nel Basso Monferrato. La prima componente, la Langa del Barolo, è situata nella provincia di Cuneo. Nel territorio si concentra la coltivazione antichissima delle uve nebiolo, dalle quali si ottiene il celebre Barolo, il re dei vini, vino rosso a lungo invecchiamento famoso in tutto il mondo e che prese il nome del castello di Barolo. Il nome nebiolo potrebbe essere ricondotto alla parola nebbia, poiché gli acini del frutto sono ricoperti da un caratteristico strato biancastro e quindi appaiono come avvolti da una delicata brina. Altre fonti sostengono che il nome deriva dal periodo della vendemmia, in quanto il periodo di maturazione spesso giunge in autunno e coincide con l'arrivo delle prime fredde nebbie. Il castello di Barolo ha origine alto medievale e risulta proprietà della famiglia Falletti dal tardo duecento. Il casato amplia l'edificio nel XVI secolo e conserva il castello fino all'Ottocento, che in seguito diviene collegio e ora è museo del vino. La via che condusse la nascita del Barolo alla metà secolo XIX si lega ad alcune storiche tenute vitivinicole della zona, tra cui quella di Fontana Fredda a Serralungo d'Alba, che fu proprietà di Re Vittorio Emanuele II, e quella della famiglia Falletti, poiché l'ultima marchesa Falletti, Juliet Colbert, si impegnò per migliorare le vinificazioni delle uve nebiolo dei suoi possedimenti e correggere le tecniche di fermentazione. Anche nelle cantine reali si operò per ottenere un nuovo vino secco e austero, per accompagnare la selvaggina. Il Barolo riuscì armonioso, strutturato, persistente, un vino che venne giudicato così nobile da poter presiedere le tavole delle corti europee. A Grinzare Cavour si trova il castello medievale, dove risiedette per alcuni anni Camillo Benso Conte di Cavour, che contribuì alla definizione e diffusione di Barolo. Il castello sorse nel XIII secolo, ma l'aspetto odierno è frutto di alcune modifiche successive. Oggi vi hanno sede l'Enoteca regionale piemontese Cavour e il Museo Etnografico sulla civiltà contadina, che operano per la documentazione, la promozione e la valorizzazione della cultura vitivinicola di Langheroero e Monferrato. Il castello è attorniato da un vigneto, dove si conducono sperimentazioni e in cui si può ammirare una vastissima collezione di vitigni. A nord-est di Alba, nelle coline di Barbaresco e Nieve, viene prodotto il Barbaresco, anch'esso frutto esclusivo di uve nebbiolo. Il Barbaresco è un vino dal colore rosso granato e dal sapore intenso e velutato, a lungo invecchiamento. Nel paesaggio delle coline del Barbaresco spicca la torre medievale del Borgo Omonimo. Esse si afface sul fiume del Tanaro e dalla sua sommità, oggetto di un recente e brillante restauro, segue da una vista panoramica imperdibile sulle Langhe. Domizio Cavazza, che da molti è considerato il padre del Barbaresco moderno, aprì la scuola pratica di viticoltura e di analogie di Alba. Il Barbera è il pregiato vino che individua la quarta zona di appartenenza del sito patrimonio mondiale, sotto zona Nizza, del territorio della DOCG, denominazione di origine controllata e garantita, Barbera d'Asti. Il vittinio Barbera è coltivato da tempi remotissimi e la filiera produttiva è oggi contraddistinta da una rete di aziende di alto profilo e dalle cantine sociali di Vinchio e Vaglio Serra, che hanno reso il Barbera il vino piemontese più esportato all'estero. Il Museo Persano si trova a Nizza, Monferrato, ed è dedicato alla civiltà inoico-contadina. La cittadina di Nizza, Monferrato, nota come capitale del Barbera, ha un passato di notevole centro agricolo medievale, grazie alla ricca produttività dei terreni. Nei territori della DOCG e Asti, identificata dalla sotto zona Canelli, la coltivazione prevalente è il Moscato Bianco, giunto in Piemonte all'epoca delle Crociate e diffuso poi nel XVI secolo da Emanuele Filiberto di Savoia. Nei secoli passati si otteneva un vino fermo. Bisogna attendere il 1865, quando grazie alla ricerca di Carlo Gancia nasce il primo spumante italiano. Alla fine dell'Ottocento, grazie al procedimento messo a punto dall'enologo piemontese Federico Martinotti, nasce il vino spumante aromatico Asti. Da quel momento lo sviluppo dell'industria spumantiera piemontessa decolla, concentrandosi attorno alla città di Canelli. Caratteristiche del settore sono le cosiddette cattedrali sotterranee, che si trovano a Canelli, e sono immense cantine dove si affinano i vini spumanti. Questi imponenti ambienti produttivi si compongono di sale, gallerie e tunnel, alcuni dei quali scavate secoli fa per far riposare le bocce di moscato durante la fermentazione. Il burgo medievale di Calosso è noto come il paese dei Crotin. I Crotin sono cantine scavate nel tufo, al di sotto delle abitazioni, utilizzate per conservare il vino più prezioso e altri prodotti alimentari. La pratica popolare di scavare conicoli e dispense sotterranee sembra avere inizio nel XVIII secolo. L'Infernot è il protagonista dell'ultima area inserita nel sito patrimonio mondiale. Si tratta di una tipologia di manufatti realizzati con una particolare pratica architettonica di origine popolare, che consiste nel ricavare cantine e vanni sotterranei scavando la pietra da cantoni, roccia tipica del basso Monferrato, utilizzata anche come materiale da costruzione degli edifici dei borghi della zona, che costellano il paesaggio. Nell'insieme le sei parti componenti descrivono in maniera esemplare la complessità degli aspetti culturali, insediativi, architettonici, paesaggistici e produttivi, attraverso cui si manifesta la secolare tradizione vitivinicola del territorio. Trovano rappresentazione nel sito tutte le fasi essenziali del tradizionale ciclo produttivo del vino e dei fenomeni socioculturali che sostanziano le relazioni e le dinamiche funzionali del paesaggio. L'integrità è data dalla permanenza essenziale degli elementi che strutturano il paesaggio agrario, dalla conservazione dei caratteri funzionali e morfologici delle infrastrutture e degli insediamenti. L'instituto si presenta notevolmente integro anche dal punto di vista estetico e dalle relazioni visive. I caratteri che definiscono il paesaggio vitivinicolo hanno conservato la loro autenticità storica e culturale e rappresentano la combinazione avvenuta attraverso i secoli di sperimentazioni innovative e pratiche consolidate. Le fonti documentarie, bibliografiche e iconografiche forniscono una ricca e diversificata documentazione dell'importanza della viticoltura e più in generale della cultura del vino in questa regione fin dai tempi antichi. L'autenticità della cultura del vino è assicurata dalla permanenza dei saperi che si sono tramandati nei secoli e che sono documentati da testimonianze di varia natura. La conservazione del suo substratto materiale morfologia urbana, assetto culturale, patrimonio costruito, vernacolare e monumentale è garantita da un mix tra la continuità d'uso delle strutture e dei manufatti e un corpus di norme giuridiche e regolamentazioni di tutela e protezione. La cultura vitivinicola piemontese costituisce la base dell'identità della regione. I vini di Langeroero e Monferrato sono internazionalmente riconosciuti tra i più importanti prodotti enologici del mondo tutelati da opportuna denominazione di origine controllata e garantita. GEOCG è il marchio italiano che attesta l'origine geografica di un vino in base a criteri rigorosi sulle modalità di produzione. Si tratta del più alto riconoscimento di qualità del vino in Italia. Il sistema vitivinicolo piemontese e le sue tecnologie culturali hanno generato tra i più famosi enologi italiani scuole enologiche e innumerevoli contributi e studi nella scienza enologica e ampelografica moderna.